Momenti di forte apprezzione accossato a causa di un violento incendio divampato al primo piano di una casa indipendente, sita nei pressi della scuola primaria Masseria. E' stato spento grazie a tre mezzi dei vigili del fuoco, due le pattuglie dei carabinieri presenti ed anche gli uomini della protezione civile che bloccavano le vie di accesso. Il rogo sarebbe stato scatenato dal surriscaldamento della canna fumaria di una caldaia a legna. Da lì si è sviluppato un incendio sul tetto della casa indipendente. Fortunatamente in quel momento transitava anche un autoradio del nucleo radiomobile di Cossato impegnata in un servizio preventivo. Notata la colonna di fumo e le prime fiamme fuori uscire dal sottotetto, i militari hanno immediatamente allertato i soccorsi. Essi sono adoperati per far evacuare le eventuali persone presenti all'interno. Due i coniugi residenti di circa 70 anni, la moglie disabile e in carrozzina. L'uomo e i militari sono entrati in casa, hanno soccorso la donna, ignara di quanto stesse succedendo. L'hanno trasferita dal letto alla carrozzina e l'hanno portata al sicuro all'esterno dell'edificio. La malcapitata fortunatamente non ha avuto bisogno di cure mediche. L'intervento è stato tempestivo, il danno registrato nell'abitazione è davvero imponente. che è sempre marking out. L'arrivo in questi due regioniata, l'crivenute in zona dei nostri grandioseábili.